Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Moltissimi mi avete scritto in questi giorni, ancora adesso, in questi giorni, sulle parole, riportandomi le parole dell'ex premier Giuliano Amato. Tantissimi mi avete scritto, mi avete chiesto un parere ed eccolo qua. Sarà un video molto breve e così molto spontaneo. Che cosa è successo? Nella giornata del 2 settembre di ieri, in una giornata apparentemente insignificante per la vicenda austrica, da mesi non escono in realtà, o almeno a livello ufficiale, non esce nulla sulla vicenda, parliamo sempre di una vicenda avvenuta 40 anni fa, d'improvviso un lampo squarcia le nebbie. E sono le parole dell'ex premier Giuliano Amato, che per inteso si è occupato tantissimo della vicenda ustica, si è occupato anche a livello personale, una persona che gode della stima internazionale, e pressoché universale, Giuliano Amato è una persona sicuramente rispettabile e rispettata, che concede un'intervista esclusiva al quotidiano La Repubblica, e da qui scoppia un caso giornalistico, ancora in questi giorni in corso, con una risposta ufficiale addirittura della Francia, che cosa dice, quali sono le parole pesanti del presidente Amato? Sostanzialmente quelle di accusare la Francia di questa strage, e addirittura di chiedere scusa, suggerisce all'attuale premier Macron, una persona molto giovane, che evidentemente non ha alcun ruolo nella vicenda, dice adesso l'Eliseo può lavare l'onta che pesa su Parigi, sono parole veramente pesanti, sono basate su fatti oggettivi, beh, la realtà dei fatti è un po' diversa, Giuliano Amato, in questa intervista che ho qua di fronte a me, che non posso farvi vedere, perché ovviamente è un'intervista coperta da diritto e d'autore, ma insomma ve la ricostruisco un po', il fulcro però, al di là della ricostruzione, il giornalista gli chiede, Presidente Amato, qual è la sua ricostruzione dei fatti, e qui cominciano a esserci già delle cose che non tornano, la versione più credibile è quella della responsabilità dell'arenautica francese, con la copicità degli americani, e di chi partecipò alla guerra era nei nostri cieli della Sera del Vero, si voleva fare la pelle a Ghettafi in volo su MIG della sua aviazione, ecco qua secondo me ci sono delle cose che non possono essere sottaciute, innanzitutto la responsabilità dell'arenautica francese con la complicità degli americani, a me pare una cosa che non funzioni, normalmente è il contrario, cioè l'arenautica americana agisce poi alle complicità delle varie aeronautiche europee, questo a oggi, ma anche evidentemente nel 1980, quindi se c'è stato un intervento da parte di alcune aeronautiche, sicuramente quella più importante è stata quella americana, quindi la responsabilità principale su questa vicenda comunque ricade sugli americani, che poi i francesi siano intervenuti in quello scrambling a caccia di questi caccia, di questi caccia che seguivano il 19 è possibile, la base di Solenzara venne interessata da fortissimo traffico, abbiamo la testimonianza del generale Bozzo, però insomma dire che fu esclusiva responsabilità dell'arenautica francese, mi sembra un po' una forzatura, e poi che Ghettafi volasse su un MIG 21, una cosa che per il Raiz era una cosa inaccettabile, sì era un ex militare, però all'epoca era già un uomo abituato ai lussi e alla mollezza di una vita da dittatore, non avrebbe mai viaggiato su un MIG 21, che tra l'altro è una macchina molto impegnativa fisicamente, ovviamente anche solo il decollo e l'atterraggio richiedono una certa prestanza fisica e una certa preparazione, e non si capisce per quale motivo il Raiz avrebbe dovuto volare su un MIG in coda a un aereo italiano di una compagnia assolutamente regionale, e non ha alcun senso, avrebbe volato con i suoi aerei confortevolissimi, lussuosissimi, con la scorta di personale ovviamente non libico, di aerei non libici, e tutta questa bella cosa qui. Il fatto che si tiri sempre in ballo Ghettafi, a me fa pensare che si voglia insomma cercare sempre il solito capro espiatorio. I due MIG che volarono quella notte in coda al 19, evidentemente erano altra cosa rispetto a Ghettafi, il quale poi di MIG a quell'epoca ne possedeva a livello di piloti molto pochi. Poi si parla ancora del fatto che Ghettafi fu avvertito del pericolo da Craxi, e anche questo forse probabilmente ci fu una telefonata fra Craxi e Ghettafi dopo quella strage, ma semplicemente per, come dire, assumere informazioni da parte di Craxi, c'è stata poi la vehemente reazione dei figli in questi giorni, insomma, evidentemente qualche nodo, qualche nervo scoperto c'è da parte della famiglia Craxi, che lo ricordo fu coinvolta nell'indagine del dottor Palermo riguardo dei traffici, importantissimi traffici d'armamenti, pagati con oppio, insomma, questa è una questione di cui ho già parlato e trovate tutto sul mio canale, il nobile Macri Palmestein, molto vicino a Craxi, era in questi traffici, ora non voglio ampliare troppo la discussione del video perché sennò veramente ci vorrebbero 40 minuti, la cosa interessante però, al di là di questi dettagli che non tornano della vicenda di Amato, è che innanzitutto ha aperto un polverone incredibile e quindi si è ritornato a parlare prepotentemente di Ustica, e chissà che nei prossimi mesi, magari dalla Francia, magari dai servizi, magari dalle forze armate, dall'aeronautica, che si è sempre schierata dietro la tesi farlocca della bomba, magari finalmente, ecco, lì sì, forse oggi ci sono generali, funzionari, che nulla hanno a che fare con quel mondo, e allora lì forse sì, magari si possa avere accesso a qualche documento in più, ma continuo a pensare che la verità arriverà dagli Stati Uniti, magari questo polverone potrà essere utile, se ne sta parlando nei giornali, si parla da ore della vicenda Ustica, sicuramente questo non fa male alla verità, però un'altra cosa interessante è che Amato parla del famoso miglibico che atterrò sulla Sila, e anche lui sostanzialmente conferma il fatto che quell'aereo possa essere legato alla strage di Ustica, che è una cosa che diciamo i poteri forti, ecco, se non vorrei fare il dietrologo, ma insomma, hanno sempre cercato di sganciare dalla vicenda e hanno sempre cercato di inquinare quella verità, e lui dice, lessi la perizia medica sul corpo della viere libico ritrovato sui monti della Sila il 18 luglio dell'80, tre settimane dopo la tragedia, parlava espressamento di avanzato stato di putrefazione, su queste brevi frasi in realtà si sono scatenati decenni di studi, decenni di libri, decenni di analisi, di teorie, di smentite, quindi lui invece lo dà quasi, come dire, come un dato tutto sommato confermato, non poteva essere morto il giorno prima, perché ce lo volevano far credere le ricostruzioni ufficiali? Questa è una piccola bomba, perdonate la similitudine, ma insomma, e quindi già questo, ovviamente queste sono cose che sono passate più in secondo piano, ovviamente scarta l'attesi della bomba, parla della ditta Ifremer legata ai servizi, e quindi abbiamo un'altra conferma, e si pente sostanzialmente di questa scelta che gli fu imposta da Vittorio Bucarelli, giudice controverso della vicenda austica, e poi soprattutto e poi soprattutto c'è un punto che secondo me è molto interessante. Si ragiona Amato con il giornalista dicendo ma è ancora senso continuare a coprire questo segreto che avvolge la strage di Ustica, qualunque esso sia, Amato risponde e questo è il punto, non giustifico tuttavia comprendo le spinte che allora portarono all'occultamento della verità, ma 40 anni dopo è difficile da capire, ci guadagna la Nato ad apparire ancora più disumana nascondendo ancora una tragedia del genere? Anche Amato si interroga sul fatto che a 40 anni di distanza questa strage, questo incidente, chiamatelo come volete, ancora non abbia una verità. Perché? Perché questo segreto è così pericoloso ancora oggi? Non c'è motivo, se si voleva fare la pelle a Gheddafi, Gheddafi è morto da parecchi anni, insomma la sua vicenda è chiusa, è conclusa, forse c'è altro, forse non è Gheddafi la chiave di svolta della strage di Ustica, forse sono quei due mig in volo ancora ad essere pericolosi, per chi? Per l'industria aeronautica bellica, a questo punto europea ormai, perché non si può più parlare di un'industria bellica italiana, ormai si parla a livello europeo, e solo questo giustifica, questo potrebbe giustificare la continuità del silenzio dopo 40 anni. Non si può dire che quei due mig erano in volo perché qualcuno stava guadagnando in commesse o in affari militari che erano funzionali al volo di quei due mig, perché altrimenti non c'è spiegazione, posso capire gli americani non vogliono dire pubblicamente di aver commesso un errore abbattendo per errore una manovra di scrambling un aereo civile, va bene, però ci sono stati altri casi purtroppo analoghi, sarebbe forse bastata un po' di pressione o basterebbe oggi un po' di pressione da parte della politica sugli americani per avere dei documenti, per certificare questa cosa che ormai è quasi data per assodata, ci sono i miei due amici Ramon Cipressi e Marco Damontis che stanno facendo un lavoro incredibile e in solitaria per stabilire che fu praticamente una collisione tra un caccia militare americano e lo sfortunato 19. Però perché non si vuole dare una spiegazione pubblica al volo di due MIG senza livree in coda a un aereo italiano a distanza di 40 anni? Il motivo è valido ancora oggi? Beh, certo, il motivo è valido ancora oggi perché ancora oggi l'Italia deve gran parte del suo fatturato, del suo PIL alle industrie belliche, oggi ancora di più con la guerra in Ucraina e con le tensioni nel sud-est asiatico. Ecco, allora si spiega il perché ci sono 40 anni di reticenze e poi ovviamente l'aeronautica militare era coinvolta in questi traffici. Quasi tutti i grandi generali, i grandi funzionari dell'aeronautica militare al termine della loro carriera finivano a fare i consulenti per le grandi industrie belliche non c'era nulla sostanzialmente nulla di male però questo è e quindi c'era probabilmente una certa ritrosia a parlare di questo. Parliamone il mercato bellico certamente è un mercato che gode del nostro rispetto noi siamo tra l'altro tra i migliori al mondo e come abbiamo visto ce n'è anche bisogno per mantenere la pace purtroppo delle armi quindi potremmo sdoganare il fatto che l'Italia produce armamenti da tantissimi decenni e qualche volta ha dovuto fare affari anche con persone non propriamente di specchiata onestà però diciamolo questo forse è il piccolo merito dell'intervento di Amato che poi ha scatenato delle reazioni addirittura dalla Francia che ha risposto noi abbiamo sempre collaborato siamo a disposizione qualora voi ci chiediate perché poi anche qui è chiaro che se tu non fai le domande giuste non ottieni le risposte che ti servono vedremo vediamo tanto vi dovevo una risposta così molto immediata molto social spero di aver come dirvi instillato qualche dubbio e qualche curiosità per il resto non vorrei che fosse il solito polverone che poi una volta fatto il suo mestiere si adagi e ritornino le tenebre vi ringrazio sul canale trovate tantissime informazioni sulla vicenda della strage di Ustica in particolare nel mio documentario indagine di un cittadino comune vi ringrazio e alla prossima